Eccoci con un'altra proposta di regalo No, questo tu non lo puoi toccare perché è un coltello e il coltello è pericoloso Però potresti regalarlo a tuo papà se non sai che cosa regalare Questo è un coltello Morgni, è il Pro-C con lama Carbon Steel È un coltello piccolino, come potete vedere Lama da 91 mm La lunghezza totale del coltello sono 206 mm C'è uno spessore di 2 mm se non erro, esatto Il materiale è fatto da 58,60 gradi Come tipo di metallo È un coltello svedese della Morgni La particolarità di questo coltello è che costa veramente, veramente di poco Questo è un coltello che ti porto per casa con 9,90 euro Nathan quanti sono 9,90 euro? Io non ho Prossimi, quanti e di pochi? Pocchi Molto, molto pochi Quindi potrebbe essere un'idea anche questa non estremamente gustosa Ma comunque silenziosa È un coltello da lavoro adatto per attività bushcraft Tagliare il legno, tagliare i piselli, le carote Cicchi, quello che vuoi Abbiamo portato due asce e tre coltelli Ma queste le vedremo nel prossimo video Quindi per ora è un coltello Morgni Pro-C Il Carbon Steel È un coltello Morgni Pro-C È un coltello Morgni Pro-C